E' stato caricato sul cofano di un'auto in corsa, il suo corpo ha sfondato il parabrezza prima di essere sbalzato via. Questa la tragica vicissitudine che nel primo pomeriggio di domenica a Rimini ha avuto come protagonista un uomo di 72 anni che percorreva la strada consolare per San Marino a bordo della propria bicicletta. Le due del pomeriggio l'orario in cui è avvenuto l'impatto con una Renault Chenique. Ci troviamo a pochi metri di distanza dall'incrocio con via della Gazzella, non lontano dal casello di Rimini Sud. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale, sia l'automobile che la bicicletta viaggiavano nello stesso senso di marcia in direzione del Titano. L'anziano si è ritrovato sul cofano della macchina ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Lo schianto è stato violento e le condizioni del 72enne sono parse da subito gravissime. Sul posto sono sopraggiunti i metri di soccorso chiamati dagli automobilisti che passavano di lì. Data la gravità del ferito si è resa necessaria l'eliambulanza di Ravenna che è atterrata in un campo da calcio adiacente alla strada e ha trasportato il ferito al trauma center del Bufalini di Cesena. La corsia in cui è avvenuto l'investimento è stata bloccata per i rilievi della polizia causando rallentamenti al traffico.